Ciao, sono Daniela Freestyle di Montecchio, ci siamo avventurate in questa nuova esperienza così un po' per gioco ed è la prima volta che noi in trent'anni facciamo questo tipo di pubblicità. Abbiamo scelto Lo Signi TV perché è una televisione della zona e ci piace promuovere anche usare mezzi del nostro territorio. In trent'anni, come dicevo prima, è la prima volta che noi effettuiamo questo tipo di pubblicità e devo dire che siamo rimasti molto contenti perché abbiamo avuto riscontro da diverse zone limitrofe di Pesaro che prima magari non ci conoscevano e hanno visto il nostro spot su Rossini TV e ci sono venuti a trovare. Per noi è stata una bella esperienza, la riproporremo sicuramente, ci vediamo presto. Freestyle è la nostra storia, la nostra vita, la nostra energia. Da trent'anni il nostro stile. Freestyle è la nostra storia, la nostra storia è la nostra storia. Freestyle è la nostra storia, la nostra storia è la nostra storia. Freestyle è la nostra storia, la nostra storia è la nostra storia.